22 anni fa in giappone venne posata questo almeno era nelle intenzioni una pietra miliare per la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e per ridurre il surriscaldamento globale tirando in ballo la metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto possiamo dire che gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti ma molto è cresciuta in tutti noi una coscienza ambientale anche nei piccoli gesti quotidiani come chiudere il rubinetto quando quando non serve spegnere la luce piuttosto che ogni tanto lasciare l'auto sotto casa ma saranno soprattutto le grandi potenze a decidere le sorti del nostro pianeta la cina gli stati uniti la russia e i paesi emergenti mi piace sottolineare qui alcune contraddizioni anche legate alla nostra terra contraddizioni che sono anche figlie di una certa incapacità politica entro il 2025 in sardegna non si potrà produrre energia bruciando il carbone non si capisce bene quali siano ancora le alternative macron vuole uscire prima dal piano carbone vuole decarbonizzare prima lui sì che può visto che il 70 per cento dell'energia francese proprio dietro casa nostra viene prodotta con le centrali nucleari